La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3 2926 dei deputati De Lorenzis ed altri concernente intendimenti in ordine al possibile ritiro o revoca dell'autorizzazione unica al progetto del gasdotto Trans-Adriatic Pipeline TAP nonché in ordine a misure di compensazione e mitigazione relativa al reimpianto degli ulivi. Il deputato De Lorenzis ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2015 ha rilasciato il decreto di autorizzazione unica al progetto del gasdotto TAP. Il rispetto delle prescrizioni nel decreto di compatibilità ambientale in riferimento allo spostamento degli ulivi deve essere accertato dalla Regione Puglia che è l'ente vigilante secondo le normative vigenti. In particolare il Servizio Ecologia deve ancora rendere il parere conclusivo per tale accertamento. Il 15 marzo il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paisaggio della Regione Puglia conclude che la mancata piena ottemperanza delle prescrizioni non consentirebbe l'inizio dei lavori di espianto. Il 17 marzo lo stesso Ministero dell'Ambiente ha dichiarato a titolo informativo e non autorizzativo che TAP può dar corso alle attività previste a condizione che siano acquisiti gli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari ai sensi della normativa vigente. Quindi ci chiediamo, Presidente, perché il Governo italiano continua con questo abuso di potere a calpestare con inaudita violenza le prerogative e le competenze della Regione Puglia e le leggi dello Stato italiano. Grazie, Presidente. Il Ministro dello Sviluppo Economico Calenda ha facoltà di rispondere per tre minuti. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, in merito al quesito posto occorre precisare che la scelta del metano d'otto TAP innanzitutto accrescerà la sicurezza degli approvvigionamenti, la diversificazione delle fonti di provenienza del gas, l'aumento dell'offerta e del numero di fornitori in concorrenza sul mercato italiano ed europeo con effetti a tendere positivi sui prezzi. Il mix energetico italiano, vale ricordarlo, è tra i più verdi d'Europa, avendo superato con sei anni di anticipo e il target sulla quota di energia da fonti rinnovabili al 2020. La produzione elettrica nazionale è infatti coperta al 39% da fonti rinnovabili, al 15% dal carbone, al 40% per il gas e al 6% da altre fonti. Come presentato nell'audizione parlamentare sulla SEN, ovviamente i documenti sono a disposizione, la quota di rinnovabili crescerà ulteriormente erodendo le quote del carbone e il gas, dovrà garantire la stabilità e la sicurezza della rete elettrica nazionale, colbando l'intermittenza e la variabilità delle fonti rinnovabili. Relativamente al presunto eccesso di infrastrutture richiamato di approvvigionamento, i gasdotti sono progettati per assicurare la massima portata giornaliera nel periodo di punta di consumi invernali, a cui viene sommato un margine addizionale di sicurezza ed è quindi del tutto fuorviante confrontare il sconsumo annuo con la capacità teorica massima annua di importazione, ottenuta moltiplicando la portata giornaliera tecnica massima per tutti i giorni dell'anno, in quanto ciò presupporrebbe un utilizzo a pieno regime di tutti i gasdotti, non considerando la stagionalità dei consumi e l'effettiva disponibilità a monte di contratti di fornitura di gas corrispondenti. L'importante piuttosto è diversificare le fonti e le rotti di approvvigionamento. L'Italia attualmente dipende infatti per il 45% dal gas russo, percentuale che sale al 65% nei picchi invernali. Gran parte delle altre forniture vengono poi dall'Algeria e dalla Libia, che è ancora un'area instabile. Complessivamente da qui al 2020 scadranno contratti di fornitura a lungo termine per un totale di 35 miliardi di metri cubi di gas, con un deficit potenziale rispetto alla domanda prevista pari a 14 miliardi di metri cubi. Il TAP dovrà garantire questo gap in maniera significativa. Relativamente al metanodotto e al trasporto e al collegamento alla rete nazionale di trasporto, il relativo costo verrà inserito dall'autorità per l'energia nel calcolo della tariffa di trasporto del gas che sarà pagata dalla società che importeranno il gas a zero in Italia. Tutti i costi di trasporto dalla Azerbaijan fino all'Italia saranno pagati dalle società private che importeranno in concorrenza tra loro il gas fino al nostro Paese. La diversificazione delle fonti e l'aumento dell'offerta creeranno dunque una spinta concorrenziale che spingerà a ribasso i prezzi per gli utenti finali, le imprese e le famiglie. Non ripercorro qui il litera autorizzativo già discusso sul metanodotto TAP, la cui legittimità è stata confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato. Per tutte queste ragioni il metanodotto TAP è un'infrastruttura strategica e fondamentale per conseguire gli obiettivi di sicurezza energetica, di decarbonizzazione e di competitività dei prezzi. La scelta del metanodotto TAP migliorerà la sicurezza della provenienza del gas e si avrà anche maggiore autonomia di fornitura. Il Ministero non ha risposto a quanto abbiamo chiesto, il fatto che oggi la Regione Puglia non ha ancora rilasciato l'ottemperanza alla prescrizione A44 e non può farlo perché non è così, perché il Ministero non può arrogarsi di pretendere il suo ruolo oltre le competenze stabilite dalla Costituzione italiana. Presidente, qui in quest'Aula oggi sono state ribadite per l'ennesima volta tante bugie. Non serve alla sicurezza di approvvigionamento perché vi faccio notare che il gas non lo prendiamo dall'Azerbaijan, che è una dittatura che non rispetta i benché minimi diritti civili. Quindi quando si mette in confronto l'Azerbaijan con paesi come l'Algeria, la Libia e la Russia mi dovete spiegare la differenza. Ancora, Presidente, si dice che la maggiore concorrenza diminuirà le tariffe. Intanto, sui consumatori italiani nelle loro bollette dovranno pagare 270 milioni dovuti al collegamento tra Melendugno e Mesagne della rete SNAM per collegare il gasdotto TAP. Ancora un'altra bugia, Presidente. Qui il Ministro mente, sapendo di mentire perché è stata la stessa società TAP. L'amministratore russo ha detto al Senato in audizione che qui non si tratta di diversificare le fonti, ma di sostituirle. Quindi, ancora, prendete in giro gli italiani e questa è l'ennesima truffa colossale avvallata dal governo italiano, Presidente. Noi, per fortuna, tra un anno saremo al governo di questa nazione e attueremo tutte le politiche energetiche necessarie per togliere di mezzo tutte le opere che non hanno nulla a che vedere con l'approvvigionamento energetico superfluo, come appunto il gasdotto TAP e chiuderemo le centrali a carbone entro il 2020. Questa è una promessa.